Signore e signori buonasera, questa è Minecraft Ita, io sono Surry e oggi costruiremo una doppia farm di Cave Spider. Allora, mi sono informato il design è abbastanza semplice ed è rimasto invariato da come lo riguardavo qualche anno fa. Abbiamo solo una cosa da controllare. Allora, in alcuni episodi fa abbiamo pulito questa zona per accogliere le stringhe e fare le candele e ci siamo alla grande. Faremo ora la stessa cosa da quest'altro lato, quindi stiamo attenti a eventuali ragnetti e capiamo, mettiamo un po' di torce così non può spawnare nessuno, qua tra l'altro siamo anche all'aperto. Però voglio vedere una cosa, voglio vedere se abbiamo avuto il culo indecente di avere questi spawner, ma così ad occhio vedendo mi sembra di no, sullo stesso livello perché sarebbe davvero clamoroso. Dobbiamo capire una cosa, riusciamo a metterli, ma c'era un altro qua? Ok, sarebbe stato clamoroso averne tre così vicinissimi. Stefano mi ha detto che lui ne ha tre nel suo mondo, quando me l'ha detto ero, non ero invidioso, però ho detto cacchio che culo. Vabbè, noi ne abbiamo due e due ci vanno benissimo. Già uno spawner in realtà ti dà tanta esperienza e se sto facendo questa cosa è perché voglio avere una farm di esperienza. Ho passato l'ultima mezz'ora a capire cosa potevamo fare per avere esperienza in questo mondo e c'è, ci sono tante possibilità, c'è il classico... Dove devo andare io per... Beh, ma sai che forse, forse... Allora, scaviamo così, scaviamo così finché non superiamo i vari tunnel. Andiamo dritti di qua. Se riesco a vedere... Eh, lo vedo. Non è alla stessa altezza propriamente, ma lo vedo, il che vuol dire che forse, forse possiamo lavorare. Ora, dobbiamo trovare un punto nel mezzo... Vedi, questo è attivo, quello non è più attivo. Dobbiamo trovare il punto, lo sweet spot si dice in inglese, il punto dolce in cui... Beh, ma fantastico, questa cosa è fantasmagorica. Qui dobbiamo costruire. Qui è dove ci sarà la nostra collection chamber. E a questo punto direi che possiamo far arrivare tutti i mob, tipo, da lì e da lì. Potremmo avere addirittura a costruirli separatamente, in modo che da qui arrivano da questa parte. E da lì arrivano da questa parte. Beh, per me ha molto senso questa cosa che ho appena detto. Mi rendo conto che magari è difficile da visualizzare, così, a mente. Ma fidatevi che viene una bella robettina. Cioè, più che altro dovrebbe essere particolarmente efficiente. Ora, il percorso da seguire è relativamente facile. Nel senso, come per qualsiasi altro spawner, bisogna creare uno spazio 4x4 attorno a ognuno di questi. E useremo la cobble slate perché ci piace, nel senso è un blocco scuro che è stiloso, è economico perché lo troviamo ovunque. Non dobbiamo metterci lì a fare troppe menate, tipo, cercare blocchi particolari. Uno, due, tre, quattro blocchi anche da questa parte. Allora, quattro blocchi per lato, due in altezza sopra lo spawner e poi bisogna anche scavare verso il basso. Tre blocchi. Tre blocchi bastano. E questa è la base. Se hai uno spawner con queste misure, bene o male, te la cavi sempre. Uno, due, tre. Qua sento una marea di ragni di già. Oh, buongiorno. Lei mi ha leggermente spaventato. Eh, siamo pieni oggi, eh. C'è il pienone qui al ristorante. Muori un po'. Ehi, va bene. Va bene tutto, però, anche meno. Tiamo un po' di torce. Abbiamo finito le torce di nuovo. Manda i detti, voi. Ma, dammi qua. Ok. Oh, sento una marea di mob. Che ansia che mi crea sta roba. No, non è vero. No, non è vero. No. Non è vero. Ne abbiamo tre anche noi. Ne abbiamo tre anche noi. Eh, però, come cacchio faccio io a gestire sta roba? Non è scontato. Mettiamo delle torce. Come facciamo a gestirne? Eh, allora, a sto punto le facciamo... Guarda come si muore, eh. Tra l'altro. Ok. Beh, mi spiace Stefano. Non sono più molto geloso. Devo dire la verità. Eh, va bene. Allora, potrebbe essere diventata all'improvviso molto più complicata la nostra build. Però, ora capiamo il da farsi. Ma che figata. Tre spawner di ragni. Due uno sopra l'altro, praticamente. Che è una grande cosa, fidatevi. È una grande cosa perché vuol dire che possiamo fare una sola farm, diciamo, per questi due. E un'altra per il terzo. Eh, ragazzi. Tre cave spider così sono tantissimi. Cioè, generiamo una quantità di ragni indecente. Copriamo qua. Luce dappertutto. Ma buongiorno, tutto bene? Beh, mi fa piacere che lei sia amichevole. E... Ok. Quanto è... Ma è anche sullo stesso livello? No, dai, mi prendi per il culo. Non può essere. Ok, non è propriamente sullo stesso livello. Penso sia sullo stesso livello con quello di là, forse. E... E come facciamo ora? Bella domanda. Ah, intanto devo pulire tutta sta zona. Poco ma sicuro. Ok, potrebbe essere un progetto più... Più complicato del previsto. Oh, quanti siete? Eh, ok. Così si muore davvero, però. Quanti... Eh, la madonna. Quanti ce n'avete qui? Una farm di scheletrici, di scheletrici, buonanotte. È una farm già bella accrocchiata. Quanti ce ne sono? Oddio, che paura. Calma un po'. Calma un po'. Fammi mangiare. Dov'è? Eccolo. Ah, vedi come muori col fuoco. Di qua? C'erano altri... Ehi... Piccolo agguatino. Non è un agguato d'amore questo, però, eh. Ok, se c'era un altro sopra... Cioè, se per un qualche motivo sono quattro spawner, io impazzisco. Qua ci sono una marea di mob. Una marea, che non l'ho capita, sta roba. Di qua? Che succede? Che è tutto sto caos? Cosa c'avete? Ma quanti siete? Che è una torcina? Ok. Così state un po' cami, non mi fate casino. E... Ragazzi, che dire? La situazione è un po' complicata. Devo essere onesto. Che non saprei come... Si possono spostare i spawner? No, vero, non si possono spostare. Per un momento ci ho pensato, poi ho detto, no, sarebbe troppo overpowered come roba. E... Che dire? Bisogna pulire la zona. È l'unica cosa che mi viene in mente. Pulire la zona il più possibile. E creare due encasing. Sempre con le stesse dimensioni. Eh sì, per forza. A questo punto mi chiedo se abbia senso usare anche questo qui. Perché vedi... Per stare... Allora, vediamo se io riesco ad attivarle tutti e due, stando non troppo vicino. Ci possiamo provare, eh? A trovare lo sweet spot per tutti e tre. Però considerate che sarebbe uno sweet spot comunque anche un po' verso il basso. Non è che devo stare a questa altezza. Allora, così sono tutti e tre attivi. Vediamo quanto possiamo scendere per averle tutti attivi. Perché io sarò leggermente più in basso rispetto al livello degli spawner. Allora, vediamo se riusciamo a vederli tutti. Proviamo a scendere ancora un pochino. Così quelli sono sicuramente attivi. Quello è attivo. Ragazzi, penso si possa fare. Cioè, sto un attimino sognando. Però, penso si possa fare. Da qua è attivo? Quelli sono attivi. Quello è attivo. Eh, credo di sì, ragazzi. Credo di sì. No. Quello no? Eh, forse quello è il problema. Quello si attiva solo da questo blocco qui. Ok, la zona è pulita. Uno, due, tre, quattro. No, mancano questi blocchi qui. Poi, in realtà, andrebbero chiusi tutti i buchetti attorno. Perché quello, altrimenti, non sarebbe super efficiente. Però questa potrebbe essere la prima stanza. Che è troppo alta ora. Però, vabbè, non ci cambia la vita. E dovrebbe essere anche, tipo, tra i verso il basso. Ecco, è in questi momenti che sono contento di avere ora il piccone con l'efficienza aumentata. Perché, altrimenti, sarebbe davvero un piccolo caos fare questa cosa in questo momento. Ok, e questa è la prima zona. Leviamoci, tipo, questi spiderite. Tanto avremo una marea dopo. Prendiamo, piuttosto, i deep slate. Che ci potrebbero servire per fare dei brick. O cose di questo tipo. Olè. Ok. E questa è la prima. Poi, in che direzione era? Forse era di qua. Credo. Ecco, di qua c'era l'altro. A questo punto mi chiedo se non convenga fare... Buongiorno, signor Pipistrara. Tutto bene? Mi chiedo se non convenga prima fare quella lì. E poi capire come aggiungerci quest'altra. Penso sia la scelta migliore, in realtà. Piuttosto che fare un design unico alla partenza. Perché design unico vuol dire trovare... Lo sweet spot in cui sono attivi tutti e tre. E che diventa il nostro AFK spot. Un punto dove siamo, diciamo, a FK, sì. E invece se noi lo facciamo di qua, che va di là, quello rimane attivo e poi lo possiamo congiungere. E magari abbiamo due killing spot diversi. Quella è l'unica cosa che mi viene in mente al momento. Potrebbe funzionare, eh. Potrebbe funzionare. Tanto con le torce è facile rendere non operativi tutti questi angolini che vedete. Anche qui in alto. Ora andiamo con l'andesite che è ancora più facile da rompere. Però qui ci si mette delle torce. Non bisogna neanche riempirla tutta, sta zona. Che qua non ce ne può più spawnare nessuno. Con la roba nuova del... È bisogno per forza di un livello di luce superiore allo zero. Quei blocchi lì, perché sono ancora là. C'è un po' di parkour. E distruggiamoli. Olè. Sta roba qui è indecente, ragazzi. Non so come... Non penso che mi sia mai successo in tanti anni di Minecraft di vedere due spawner così vicini. Onesto. Figo. Figo. Diventa quasi superfluo usare anche il terzo. Però lo useremo, perché siamo qua. Non siamo mica scemi. Va bene. Allora, come funziona qua la situa? La situa è abbastanza semplice. Bisogna andare qui nel centro. Bisogna scavare ancora un po'. Se dobbiamo andare di là, l'acqua la metteremo qui. E al centro bisogna fare un 3x2 tipo così. Potenzialmente sì. E devono essere un po' di blocchi. Credo fosse sempre 7 il numero magico. 1, 2, 3, 4. Facciamo così. In realtà se faccio questo tunnel poi ci va bene. Anche per l'altro spawner. Quindi facciamo un tutt'uno. Qui chiudiamo. Ora, io sfortunatamente ho i secchiagli vuoti. Devo andare a recuperare dell'acqua. Però potrebbe già andare bene. Perché metto l'acqua qui. L'acqua lì. Poi scavo un po' così arriva qua. Quindi se senti devo scavare ancora. Sì, mi sa di sì. Noi creiamo giusto un qualcosina per tornare su di qua. Ma sai che forse devo scavare. Devo piazzare dell'acqua. Se no non riesco a capire dove devo andare. Quindi andiamo a prendere un po' d'acqua. Facciamo la fonte d'acqua infinita qui. Tanto ci servirà per forza. Molto bello anche che siamo proprio sotto la base. Cioè, 3 spawner di ragni di caverna così. Perché per chi non lo sapesse. I ragni di solito sono una menata incredibile. Cioè, i ragni sono quella cosa che provi ad evitare il più possibile. Quando parli di una farm di esperienza. O anche solo di mob in generale. Perché sono grandi. Intanto sono 2x2. E 2x2 è una rottura incredibile. E poi salgono. Cioè, si arrampicano alle pareti. Fanno un po' il cacchio che vogliono. Posso prendere qua un po' d'acqua? Fantastico. No, 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 dove vai? Posiamo... No, 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 no. Lo scarico, come l'ha detto. La mia secchiella. Hai capito? Lo scarico del water qui tra una cosa e l'altra. Stava mettendo vittime. Buttiamo... Che butto? La flinta che ci frega, dai. Allora, facciamo la fonte d'acqua infinita. La facciamo tipo qui. Che tanto potrebbe servirci in futuro. Anche considerando che metteremo un altro spawner. Ok. Ora, scendiamo di qua. Mettiamo l'acqua che va uno qui. Qui e uno qui. E in teoria dovrebbe creare... Esatto. Esatto. Noi iniziamo a scavare intanto così. Tutto tondo all'acqua. Così sappiamo dove dobbiamo creare il tunnelino. Vedi? Infatti abbiamo uno troppo in alto. Ok. Quindi sono sette così. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Quindi qui potenzialmente in realtà dobbiamo già coprire perché potrebbe essere troppo alto. Ecco, l'altezza è un problema con i ragni. Devi sempre stare attento perché altrimenti ti ritrovi con una marea di ragnetti che vanno da tutte le parti. Non è il massimo. Sicché mi chiedo a questo punto... Proviamo a immaginare di fare la stessa cosa di qua. Ok, quindi abbiamo uno, due, tre. Potenzialmente quattro. Sono quattro blocchi. Uno, due, tre, quattro. Dallo spawner. E qui devo fare uno, due, tre. Sono uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette. Ragazzi, incredibile. Sono le misure perfette. Sono le misure perfette. Neanche a farlo apposta riesce a fare una cosa del genere. Allora, quello è un po' sfasato, però ci piace uguale. Fantastico, fantastico. Va bene, allora, creiamoci una bella crafting table perché è arrivato il momento di ragionare un po' al sistema di killing. Dobbiamo ammazzare questi ragni. Per ammazzare i ragni bisogna per l'appunto evitare che vadano dove vogliono loro. Quindi bisogna praticamente chiuderli all'interno di un sandwich di blocchi, mettiamola così. Come si fa? Possiamo usare gli slab... No, allora, prima degli slab dobbiamo mettere altra acqua, quindi abbiamo bisogno di cartelli in realtà. E per lato... Allora, quanti ce ne dà così? Tre, giusto? Tre, dove ho bisogno di sei. Quindi ne facciamo dodici. Ok. E questi vanno messi praticamente così. Ma forse ce ne bastano solo uno. Perché io poi metto l'acqua qui e qui. Qui mettiamo il punto di salita. Sì, so che questo non è propriamente un tutorial, ma essendo una cosa un po' anticonvenzionale, me la sto inventando un po' mentre vado. È difficile fare un tutorial su una roba del genere. Però potenzialmente io, in questo caso, avendo già questi cartelli qui, posso fare questa roba qua. Posso levare questi blocchi e avrò l'acqua che mi porta... Esatto. Immaginate, io sono un ragno. Arrivo qui. Ora, pa 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 pa. Eccomi. E mi fermo qua. Arriverà un altro ragno che mi spinge. E qui avrò altri pezzi di... Come si dice? Di acqua. Che ora vado a prendere un secondino. E come li incastriamo, sti maledetti? Allora, possiamo usare le fence, ma già che siamo qui, usiamo il wall. Io metto l'acqua qui. Qui abbiamo dei wall. E i wall sono più alti. Vedi, se non premo shift non posso passare. Qui sopra ci saranno... Allora, potremmo mettere uno slab in realtà. O un blocco intero. Forse un blocco anche. Tra l'altro qui dobbiamo metterci potenzialmente delle ceste. Degli hopper, scusa. Oh, è ciù. Anzi sì, dobbiamo metterci degli hopper. Andiamo a prendere del ferro. Facciamo degli hopper al volo. Ce ne bastano tre. E anche tre ceste. Fuori è notte. Tutto tace. A noi va bene. E dormiamo. Ricordatevi che è importante dormire, eh. Non solo per la salute, ma anche perché altrimenti poi ci arrivano quei mostriciattoli phantom che non sono simpatici. Hopper. Ne abbiamo già qualcuno da parte, magari? Assolutamente no. Fantastico. Allora, prendiamo un po' di ferro. Delle ceste. Che possiamo creare, perché di legno per fortuna ne abbiamo. Quante abbiamo bisogno? Potenzialmente di sei ceste abbiamo bisogno. Sei ceste. Ok. Quindi abbiamo bisogno di 30 pezzi di ferro, perché sono 5 per hopper. E in più abbiamo bisogno di altre sei ceste, giustamente. Allora, hopper. Me lo fai fare? Dov'è, 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 dov'è. Non lo vedo, non lo vedo. Eccolo qua. Ok, abbiamo sei hopper. Facciamoci sei ceste. Così sono tre. Così sono due. Uniamo queste. No, mi manca un blocco. Mannaggia. Ok. Sto già ragionando con i numeri doppi, perché voglio vedere se riusciamo a farlo, questo super spawner della morte. Già che siamo qui, abbiamo bisogno anche di trapdoor, giusto? Riusciamo a farle di ferro? E voi direte, perché di ferro? Perché non puoi aprirle senza la redstone, intendo. No, what the fuck? Riusciamo a farlo qui, magari? Se io metto... No, ok, ci ho provato, ci ho provato. Mi sembra bisogno di almeno tre... Abbiamo finito tutto il nostro ferro, maledetto. Beh, intendo. No, dai, ne abbiamo un po' da parte. Anzi, mettiamolo subito a cuocere nello smelter, così poi ci possiamo ragionare. Spero di aver azzeccato, solo di ricordarmi come si fa. Allora, 9x9 sono sicuro. 7 mi sembra funzionare, perché se tu mettevi 6 blocchi, come funziona? Che qui non hai modo di mettere l'acqua e far sì che salga. Invece noi mettiamo qui le tre ceste. 1, 2, 3. Sarebbe bene metterle anche singole, in realtà. Riusciamo a mettere le singole? Perfetto. Ma che bello. Che è più ordinato. E mettiamo 1, 2, 3. Sopra questi ci vanno degli slab che non ho, ma li craftiamo al volo. Facciamo così. Magari facciamoli più carini. Già che siamo qua. Deep Slate. Deep Slate fanno i brick, giusto? Ok. Abbiamo 6 bricchettoni che possono mettere qui così. Top. Ora, come funziona? Che in teoria io qua ci metto i blocchi. Qua ci metto l'altra acqua sicuramente. Quindi facciamo così e così. Vengono spinti. Come li blocchiamo? Allora, potenzialmente io qui devo scendere ancora di un livello, così posso colpirli. Ma loro sono alti metà, quindi non possono passare. Come facciamo? Prendiamo i blocchi e tutta questa zona qui la sigilliamo. Compreso qua sopra. E qui ci mettiamo le trapdoor. Ora, spero di ricordarmi bene. No? Non posso mettere le trapdoor qui. Ok. Allora, le trapdoor a cosa servivano? Bella domanda. Vuol dire che devo tirare fuori un tutorial? Credo di sì. Cioè, in teoria così dovremmo essere a posto. Perché loro salgono lì sul muretto. Fammi cercare un tutorial. Ok, a quanto pare me lo fa fare così. Quindi mi fa mettere le trapdoor qui. In modo che io qua posso bloccare. Quindi dobbiamo capire ancora meglio. Dobbiamo capire se ora ci stiamo davvero. Perché forse non ci stiamo. Perché ogni cosa che facciamo andiamo sempre più avanti. Allora, chiamo un ultimo slot qua. Allora, in teoria, loro colpiscono il wall. Salgono qui sopra e rimangono bloccati qui sopra. Perché l'acqua li spinge e loro rimangono bloccati su un blocco che non ha acqua. E io posso ammazzarli. Sì, credo che sia la soluzione vera, efficace. Ma così dovrebbe funzionare in realtà, mi verrebbe da dire. Cioè, dovrebbe essere operativo. Ora, se io levo la luce. Allora, prima dovrei sigillare tutti questi. Sì, dobbiamo sigillare tutto. Sigilliamo tutta questa sala. Ok. Andiamo di qua. Andiamo anche là sopra un attimo. Un tappabuchi, praticamente. Ok. In teoria funziona. Guarda, lì c'è solo un blocco. Sì, dovrebbe funzionare. Allora, prima di chiudere questo, che poi è come torneremo di là, potenzialmente. Giusto? Sì, esatto. Allora, facciamo così. Chiamocci un bucarellino, un tunnelino di qua. E andiamo a chiudere prima quelli lì. Ecco abbiamo abbastanza torcia di qui. Controlliamo. Non vogliamo nessun mob perché ci potrebbe rovinare l'efficienza. Facciamo così. Ok. Lì sopra c'è qualcosa? Sì. Voilà. Rampiamo tutti questi blocchi che non ci interessano. Dovremmo anche levare tutte le lucettine. Quindi fare così, fare così, fare così. C'è un'altra torcia di là? Sì, che me le scordo sempre, alcune torce. Leva quella. Ok. Quindi questo ora è operativo. Dobbiamo levare anche queste torce qui. Ce la facciamo? Ce la facciamo. Ce la... Ok. Chissà se funzionano. Magari quello non funziona. Se ci sono così vicini magari non funzionano, eh. E invece funziona la grande. Uno alla volta? Vabbè, poi capiamo com'è che effettivamente andrà la situazione. Per il momento ci accontentiamo di avere un doppio spawner così. Abbiamo tutta la luce nel mondo. E buio. Ora, in teoria, dovremmo già avere una quantità di ragni talmente alta da farci schifo quasi. Vero? Eh, ragazzi, guarda quanti ce ne sono. Guarda quanti arrivano. Bellissimo. Bellissimo. Ora, i ragni così, devo fare una spada con... C'è un enchantment che serve per i ragni. Bain of Artropods. Facciamo una spada che teniamo qui apposta. Mamma mia, ma voliamo. Se no me voliamo, raga. Bellissimo. Bellissimo. E così funziona. Ora, devo fare un conto, però. E devo farlo meglio di come l'ho fatto prima. Perché al male e male devo sacrificare un blocco in quella direzione. E nel prossimo episodio cerchiamo di implementarlo. Perché oggi, fai vedere... Eh sì, oggi già ci siamo con il timing. Allora sono uno, due, tre, quattro. Qui potenzialmente lo spostiamo a destra. E abbiamo uno, due, tre. Qui ci metto io i miei sign. Qui acqua. Qui ci vanno i wall. Non so se ce la facciamo. Devo avere qui le ceste. No, mi sa che devo sacrificare un paio di blocchi. Devo farlo al contrario a sto giro. Devo farlo al contrario in modo da far sì che io arrivi qui e abbia ceste a destra, ceste a sinistra. Quindi metto già le ceste di qua. No, le ceste separate. Credo che questa sia la soluzione migliore. Ma che belli. Quanti sono? Ed è molto più veloce di quello di scheletri. Sì, devo ammazzarli io. Quindi non prenderò danno. Mi chiedo se c'è un modo per fargli prendere anche danno a questo punto. Vabbè, ragazzi, ma io direi che questo progetto per il momento può, possiamo definirlo, messo in pausa, se vogliamo. Ci vediamo domani alle 7 con la prossima mutata di Minecraft Ita in cui capiremo come implementare il terzo a questo punto spawner. E magari abbelliremo un po' questa zona. Magari facciamo una piccola haul da questo lato. Che dite, signorini ragnetti? Vi va come roba? Madonna, voglio bene o far troppo 5, tipo. Signori, per questo video è tutto. Ci vediamo domani alle 7 con Minecraft Ita. Ciao a tutti e a tutti.